annunci tu annuncio io annuncia tu vai vado io ok l'ultimo speech che ci racconta di un cambiamento fondamentale perché saper gestire le proprie finanze insomma il tema money è importante sempre ma importante soprattutto quando si come ha fatto roberto quando si lascia il sicuro per il vedremo come va e quindi non fare un salto nel vuoto ma farlo con criterio è ancora più importante e quindi chiamiamo sul palco virtuale roberto sorrentino ciao ciao grazie mille grazie ancora per questo spazio per avermi invitato a parlare si parliamo di soldi parliamone ma anche parliamo di dormire perché no poi vedrete allora andiamo velocemente così non vi prendo per la fame io sono roberto queste sono le mie bimbe faccio teatro corro l'attività fisica è stata una parte fondamentale del diciamo del nuovo della nuova fase diciamo professionale e lavorativa in cui mi sono ritrovato mi sono inventato reinventato ho fatto rinascere il designer che era in me era un bancario sbagliato questa cosa l'abbiamo risolta e eliminata e inaspettatamente anche io ho una partita eva sì lo devo confessare questo ero io nel 2005 i dubbi erano tanti l'insoddisfazione anche era il diciamo il mio punto di partenza avevo sicuramente una buona retribuzione tante spese ma il lavoro era decisamente insoddisfacente e non c'era nessuna crescita e soprattutto non mi divertivo credo che la mia storia possa resonare a tanti soprattutto agli late boomer no late bloomer così già nel 2005 mi era chiaro che qualcosa non andava eppure sono arrivato solo nel 2018-19 a diciamo ad avere delle azioni pratiche e nel 2022 ho diciamo portato a termine il mio cambiamento quindi cercavo un nuovo percorso professionale ma sostenibile e queste 100 lire che assumeremo come diciamo linea guida del di quello che guadagnavo ai tempi doveva essere qualcosa che continuava ad arrivare nelle mie tasche e altrimenti il cambiamento non era attuabile perché molte spese erano erano presenti quindi nel 2019 comincio un part time probabilmente ho avuto ai tempi un atteggiamento naif il part time molto piccolo mi lascio un libro un giorno a settimana si accelero velocemente il nastro si apre in realtà qualche porta quindi arrivo alla fine a parlare con delle agenzie di design e si arriva per l'appunto a parlare di soldi quindi come detto sopra chiedo le famose 100 lire e la risposta che ho ricevuto da questa agenzia di design è stata non funziona questo è quello che guadagnano i partner tu non sei a quel livello non sarai mai ovviamente da subito un partner in agenzia quindi diciamo che ritorni alla casella di partenza quello lì per me è stato un bagno di realtà estremamente importante da lì ho capito che c'era qualcosa di sbagliato nel mio approccio ma diciamo non demordo continuo a provare mi confronto con una persona che stimo e gli dico sai vorrei cambiare lavoro e la sua risposta è stata non ce la farei mai alla tua età è impossibile avevo solo tre anni meno di ora come vedete ho già qualche capello bianco tenete però presente che a volte chi ci vuole bene può avere non avere una visione come dire corretta delle realtà comunque ci possono essere anche i suoi bias nel nel giudizio che esprimano ma torniamo a noi nel 2020 io ho questo mostro qui che si chiama IVA e di cognome fa partita ed è un genere di diciamo di approccio al cambio lavorativo che io non prendo considerazione come strada quindi continuo a insistere a cercare un lavoro come dipendente che sostituisca quello attuale esattamente una sostituzione uno a uno pari alla fine entra in effetti una piccola collaborazione così piccola che penso di poterla gestire come una collaborazione saltuaria quindi senza aprire partite IVA mi viene con la mia rete linkedin ancora una volta eh continua ad essere eh di supporto e arrivo a definire una cifra lasciatemi dire che se c'è qualcosa che è eh estremamente importante su cui investire e definire il il vostro il vostro rete giornaliero io ho la possibilità di vedere un po' di rete giornalieri soprattutto sugli UX research ultimamente e vedo delle cifre veramente troppo basse eh ma torniamo alla mia storia c'è da cominciare il primo progetto bene siamo nel 2020 però ricordate cosa succede nel 2020 succede quello che ci ricordiamo tutti pandemia globale il mondo si ferma la collaborazione ovviamente sono le prime che finiscono in freezer in quella fase lì e anche la mia finisce nel freezer e quindi sempre attento alle mie finanze e a per l'appunto a fare i passi in maniera eh diciamo graduale non avventata faccio un passo indietro riduco il part time eh perché in quel momento semplicemente nessuno sapeva che cosa stesse succedendo e cosa come ne saremmo venuti fuori vi confesso che in quel momento avrei pensavo anche che dovevo ritornare indietro il mio progetto diciamo di eh di cambiamento lavorativo non si sarebbe attuato in ogni caso poi alla fine la collaborazione parte eh quell'anno nelle varie prove che faccio tra part time e e piccoli guadagni che entrano ma che comunque non coprono eh il il nuovo ehm le diciamo il il mancato i mancati introiti del del lavoro come indipendente comunque alla fine guadagno un quindici per cento in meno tuttavia la collaborazione parte per te è vero faccio una marea di errori eh imparo sul campo però devo essere sincero questo è quello che ci raccontiamo sempre a posteriori la realtà è che quel momento che che vivevo in quel momento era ben diversa mi sentivo la sentivo la conferma dell'impostore che eh così mi mi sussurrava alle mie spalle e quindi diciamo non ero esattamente tutto rose e fiori in ogni caso non voglio deviare del tema soldi eh il tema dell'impostore l'ho trattato l'altra volta nel nel freelance in presenza e nel freelance campi in presenza e lo trovate sul mio profilo LinkedIn l'unica questione eh che ehm questa però non è l'unica questione che che mi trovo ad affrontare in quel momento specifico se stessimo giocando a monopoli a un certo punto pesco la carta sbagliata dal mazzo degli imprevisti la carta è avete perso una causa pagate cento lire e non è una metafora perdo letteralmente una causa legale eh questa causa legale la sentenza stabilisce che devo pagare cento lire ossia l'importo che io guadagno in tutto un anno e in realtà lasciatemi dire che non è esattamente eh non sono stato esattamente preciso si tratta di una truffa una vera e propria truffa che un tribunale crede e si trasforma in sentenza che io devo pagare con questo ulteriore eh elemento in più eh diciamo ho un ulteriore ehm ostacolo no nel nel mio percorso di di cambiamento professionale e anche poi di miglioramento di vita personale lasciamo storia cosa cosa significa questa cosa in termini emotivi mi leva il sonno di notte eh ve lo garantisco e eh da un punto di vista strettamente economico ne devo tenere in conto ma a questo punto chiaramente cento lire non mi bastano più devo guadagnare di più quindi siamo nel momento più buio in assoluto della mia piccola storia eh le cose improvvisamente migliorano qualcuno vede nel mio profilo eh grazie anche a quello che scrivo su LinkedIn quello che io non vedo ancora una volta si presenta un'opportunità quindi tramite LinkedIn è un progetto di digital health finanziato dall'Unione Europea io sono comunque la faccia lì credetemi non ci credo cioè mi è sembrata una roba veramente arrivata dal cielo la situazione cambia dal punto di vista economico in maniera importante non guadagno più cento ma cento cinquanta a questo punto dormo sereno tutte le notti a questo punto capisco e il livello di l'impostore viene sconfitto proprio su tutta la linea così sbaragliato eh capisco che bisogna solo avere pazienza la palla di neve verrà giù ah e quando arriva a valle sarà di dimensioni importanti è esattamente quello che succede perché nel duemilaventuno a settembre a questo punto mi arriva una seconda collaborazione negli ultimi tre mesi del duemilaventuno rischio di impazzire porto avanti tre lavori quello che devo lasciare questi due nuovi ma alla fine ce la faccio 31 dicembre presento le dimissioni sul fantastico portale del del eh ministero del lavoro chissà quante storie passano da quel da quel portale lì sarebbe da indagare il tretto generale sono libero mi sono licenziato fine bene in conclusione quello che avevo sempre temuto il mio mostro è in realtà diventata uno strumento fondamentale per per raccogliere esperienze eh che non sarebbero mai state disponibili come come dipendente il part time mi ha permesso di modulare i miei impegni e man mano mollare il lavoro che non mi piaceva modulando con attenzione eh i passi da fare eh dovevo sempre tenere un occhio all'equilibrio delle delle mie finanze e avete visto quanto è stato importante poi essere in grado di guadagnare di più e l'occasione eh che mi ha permesso di guadagnare più è arrivata esattamente nel momento in cui mi serviva la coincidenza è stata fantastica a questo punto potrei anche chiudere ma one more thing se parliamo di soldi dobbiamo parlare anche di sonno secondo me perché a volte ehm il sonno ce lo levano e il sonno i soldi ce levano il sonno e non ho problemi a mostrarmi vulnerabile la mia tecnica l'ho parlato anche l'altra volta è questa io respiro lentamente contando fino a a 10 tipo il mio respiro per uno è e durante la notte quando mi mi sveglio vado avanti così quando mi sveglio nel cuore dalla notte vado avanti così respiro lentamente eh visto che c'è ancora credo un altro minutino eh torniamo indietro su un punto definire meglio il vostro rate assolutamente definirlo meglio nel senso che eh uno degli strumenti che mi è stato di di grande aiuto eh i conti della libera serva grazie Alessandra è uno strumento fantastico se non lo conoscete andate a cercarlo perché è fondamentale il mio consiglio però è prendere quella cifra come il minimo sotto cui non andare mai a quel punto però andate anche oltre nel senso quanto vale il vostro lavoro a quanto viene rivenduto dall'azienda per cui lavorate se viene rivenduto a 500 e voi vi offrite a 200 forse siamo un po' bassi ehm è vero quello che diceva prima Paola mi sembra nel nel suo intervento ognuno vale per sé però è anche utile quantomeno capire il mercato a quanto gira e se avete esperienza chiedete quanto chiedono gli altri forse anche di più se ne avete meno abbassate un po' la vostra richiesta per esempio del 30 40 per cento ma comunque fateci dei ragionamenti seri e poi basta si vive felici si fattura e ci si vede le cose importanti questi sono i miei contatti se mi volete contattare su linkedin piuttosto che scrivere grazie mille per il vostro tempo grazie a te roberto condivido anche l'ultima cosa che hai detto che bisogna dormire che noi purtroppo ci sono i momenti in cui ci svegliamo del cuore della notte per una cosa o per l'altra eh sì e se lì è alle 4 del mattino sveglio i momenti bui ci sono ma poi poi l'ora più buia sì le faccine roberto grandissimo successo delle faccine senti sono è tutto merito di powerpoint sai che non ci sono arrivato per caso ma per questa occasione incredibile poi powerpoint che abbia dei meriti dentro powerpoint si nasconde dentro powerpoint infatti ci sono le icone eh una marea di cose ma sufficienti comunque per fare le 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 faccine così dove scopriamo che possiamo trarre un pochino di bellezza anche da powerpoint e allora con questo direi che migliore auspicio grazie 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 a voi grazie grazie roberto grazie a voi grazie a voi